Questa sera, giovedì 4 ottobre, intorno alle 22, pattugli dei carabinieri della polizia hanno bloccato in via Bonaudo e Rivarolo Canavese una Renault Clio, prima serie, dopo averla inseguita. Testimone e Leni affermano di aver sentito degli spari e di aver visto fuggire la Clio. Dopo un acceso inseguimento, le forze dell'ordine l'hanno bloccata, forse speronandola. Pare che sulla vettura ci fossero due persone. Al momento non è ancora chiaro se una delle due sia stata arrestata e l'altra sia fuggita o si siano scappate entrambe a piedi. Seguiranno aggiornamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.